Pesaro giovedì 13 ottobre, siamo all'ultima giornata di transito consentito su strada Carloni, la strada che vedete alle mie spalle che da domani chiuderà al traffico e tornerà ad essere percorribile soltanto nel febbraio 2023. Da domani infatti venerdì 14 ottobre Società Autostrade apparcherà il cantiere che porterà alla chiusura di questo snodo stradale che dall'interquartieri arriva fino in prossimità del cuore delle quartiere di Muraglia. Quattro mesi di chiusura fino a febbraio per quella che sarà la nuova circonvallazione di Muraglia che verrà ribattezzata strada Enrico Berlinguer e che di fatto collegherà l'interquartieri da strada Pantano-Castagni fino a via Lombroso. E dunque l'interruzione al traffico comincerà da domani attorno alle 18, domani venerdì 14 ottobre e comprenderà inizialmente il tratto di strada Carloni compreso fra via Pantano e via Giorgi che durerà fino a metà novembre. Sarà un cambio di viabilità che giocoforza aumenterà il carico di traffico su strade più interne alle aree residenziali come via Flaminia o via Fratti. Una variazione alla mobilità cittadina già illustrata con abbondante anticipo dal sindaco Matteo Ricci la scorsa settimana così come in anticipo sono stati disseminati segnali d'avviso lungo tutta la strada interquartieri. Questo consentirà la ditta di finire i lavori della strada entro l'estate, questo ci è stato detto e quindi un'opera fondamentale per completare a sud gli interquartieri e per quattro mesi chiuderemo la strada. Il che vuol dire che coloro che oggi sono abituati a passare dentro Muraglia per andare all'interquartieri dovranno fare strade alternative sicuramente l'autostrada, sicuramente la statale e sicuramente l'asse via Flaminia e via Fratti sulla quale avremo oggettivamente dei disagi per alcuni mesi di maggiore traffico. Quindi chiedo pazienza ai cittadini, chiedo di seguire le indicazioni. Il primo percorso di deviazione, quello più vicino all'area di intervento è quello di via Flaminia Fratti, cioè da via Flaminia appunto si svolta in via Fratti e poi alla rotatoria con via Belgioioso e via Trometta si può risvoltare di nuovo a sinistra e andare a riprendere gli interquartieri. Diciamo che questa è la deviazione più immediata di chi si trova a ridosso dell'area di intervento. Però sapendolo in anticipo l'invito è che ognuno valuti in base alla propria destinazione quale percorso fare. E sarà probabilmente questo uno degli incroci che rischiano di essere maggiormente congestionati in seguito alla deviazione. Quello tra via Flaminia e via Fratti dove ci sarà un presidio della polizia locale e dove è già prevista una variazione alla durata dei tempi del semaforo. Abbiamo già deciso di reimpostare le fasi semaforiche in modo da agevolare un minimo i flussi di traffico più importanti. Però anche lì bisogna fare attenzione perché si rischia di agevolare un flusso e poi bloccare gli altri. Per cui cercheremo di intervenire in maniera soft e valutare in base a cosa veramente succede nel momento in cui si inizia questa deviazione. però ci saremo sia lì che nella rotatoria Fratti-Trometta-Belgioioso per valutare e vedere come intervenire.